Il periodo turistico più fiorente e più produttivo per le realtà della provincia di Salerno e ormai alle porte si attivano tutta una serie di azioni affinché questa possa essere un'estate di vero rilancio. La provincia prova a ribaltare questo concetto parlando di stagione annuale, quindi dal 1 gennaio al 31 dicembre abbiamo lavorato per costituire la consulta del turismo, una splendida intuizione del presidente Alfieri che mette dentro secondo me le realtà produttive, quelle che poi svolgono materialmente l'offerta turistica passando dal concetto che per quel che ci riguarda la strategia è in capo agli operatori, le imprese i comuni le devono accompagnare, la provincia deve svolgere la funzione di filtro di recente abbiamo riunito la consulta turismo a Open, a Capaccio Pesto, ma all'iniziativa sul turismo outdoor oggi stiamo lavorando per riportarla al Salone della Dieta Mediterranea questo perché credo che la consulta turismo mettendo insieme oltre 100 organizzazioni può costruire un'offerta lunga 365 giorni è evidente che si parte dalle realtà più consolidate, dai punti di forza, il mare, i grandi eventi però è anche vero che le aree interne svolgono un ruolo che secondo me una domanda di natura va a intercettare di più e meglio diciamo che io preferirei vedere questa cosa come il mezzo e non il fine perché altrimenti sembra di aver raggiunto un obiettivo stratosferico di fatto lo è, però l'obiettivo è renderlo funzionale a un'offerta che già esiste e che deve connettere ad esempio le due costiere, costiera amalfitana una punta di diamante della nostra offerta turistica ma anche la costiera cilentana con le aree interne devo dire che sto notando e in questi mesi è stato evidente quanta energia ci sia nei piccoli territori dell'entroterra quante piccole micro iniziative, quanti siti museali che però devono essere conosciuti e anche resi consapevoli dalla conoscenza locale quindi gli abitanti diventano assessori al turismo grazie a tutti